Ciao Andrea, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, grazie a voi e buonasera a tutti. Andrea, quale eredità vi ha lasciato la sconfitta incazzata nell'ultimo turno contro la Rarinantes Savona? Io credo un'eredità soprattutto psicologica perché ci ha fatto rendere conto delle reali differenze che secondo me ci sono fra noi e le squadre di questa portata, quindi di un livello oggettivamente superiore rispetto al nostro. Questo è sicuramente l'aspetto più importante che ci ha lasciato e soprattutto ci ha fatto rendere conto che i risultati che abbiamo ottenuto l'anno scorso non servono a nulla. Se poi non sono serviti a nulla, se poi non continuiamo a dimostrare quello che siamo in grado di fare, non continuiamo a dimostrare di poter essere in grado di potercela giocare con queste squadre. Quali sono gli aspetti del gioco su cui la squadra può registrare maggiori margini di crescita secondo te? Io credo sicuramente l'atleticità, io credo che proprio intendo da un punto di vista preparatorio si vede la differenza nostra fra quest'anno e l'anno scorso. Insomma, proprio da un punto di vista del gioco e della preparazione è causata dal fatto che non siamo più abituati a giocare ogni volta periodicamente come l'anno scorso, ogni settimana. settimana e quello che ci manca secondo me è proprio il ritmo partita, cioè siamo partiti al primo tempo che pronti via 4-0 per loro, insomma eravamo molto scarichi, però ovviamente questo è un anno anche un po' particolare. Si può dare colpa alla preparazione, alla nostra atleticità fino a 99, però io credo che questa è una carenza che veramente quest'anno stiamo pagando a tanto, specialmente contro queste squadre qua. Che tipo di lavoro ha svolto la squadra in queste due settimane? Allora, ho tolto ovviamente il periodo pasquale dove il mister ci ha lasciato riposare per due giorni, ossia la domenica di Pasqua e l'ultimo lunedì che era Pasquetta, abbiamo fatto prima un lavoro di carico per insomma mettere un po' di forza e provare a recuperare un po' di nuoto, un po' di energie per poi arrivare a scaricare questa settimana e a preparare la partita. Che cosa, diciamo andiamo un po' più nell'analisi, che cosa sta succedendo? L'hai accennato anche tu in queste ultime partite, ripenso a quella col Savona, sprazzi, partenza brutta, sprazzi di grande pallannuoto, siete arrivati anche fino almeno 2-7-9 mi sembra segnato da Michele Luongo, e poi all'improvviso è come se si spegnesse nuovamente la luce, è un calo diciamo psicologico oppure poi oggettivamente è salito il range dei vostri avversari per cui pagate poi forse una superiorità tecnica della formazione che affrontate? Sì, ma secondo me sostanzialmente fino alla fine noi siamo stati in partita, poi il Savona ha fatto quegli ultimi due gol al penultimo e all'ultimo minuto, quindi sostanzialmente fino a fine partita, volendo fare un'analisi oggettiva e tecnica, siamo stati dentro arrivando a giocarci praticamente fino alle ultime 3-4 azioni la partita, perché poi hanno fatto appunto questo distacco di più 4 che ha portato alla sconfitta. Secondo me no, ti ripeto, non è venuta fuori la forza del Savona che si imposta sulla nostra, secondo me ti ripeto, per quanto riguarda la parte finale della partita, è stata semplicemente una cosa occasionale che nelle ultime due azioni hanno fatto questo distacco di più 4, altrimenti la partita sarebbe finita a meno 2-3, insomma avrebbe dato un impatto diverso. Per quanto riguarda invece la partita a sprazzi di cui parlavi tu, oggettivamente anche questo non ti si può dare torto, perché come ho confermato anche io, il primo tempo siamo partiti che ancora dobbiamo mettere praticamente le bracciate regola, poi a mano a mano a mano a mano il nostro livello è diventato progressivamente più alto, fino appunto ad arrivare al terzo, al quarto tempo, a sprazzi di partita dove abbiamo espresso una grandissima vallanuto e dove insomma abbiamo giocato bene, o meglio una discreta vallanuto al pari, secondo me, di quella del Savona, che se avessimo giocato così dall'inizio probabilmente, non dico che avremmo vinto, ma non sarebbe finita con un distacco di 5 gol, di 4 gol, ora non ricordo neanche precisamente. Sabato arriva alla Vitale la corazzata N e Brescia, che tipo di partita ci possiamo aspettare? Allora, quel che posso dirti è che sicuramente noi entriamo in acqua, come sempre, per vincere e per dare il massimo e il meglio di ognuno di noi e per provare a cacciare fuori gli attributi e le qualità che abbiamo. Ovviamente siamo tutti quanti consapevoli, voi e noi, della forza, della completezza, delle qualità del Brescia, dei giocatori che ha e delle individualità che ha, però a noi non fanno paura, a me personalmente non fanno paura, io sono convinto che la squadra approverà e continuerà a dare il suo massimo come ha sempre fatto. Ripeto, questo purtroppo è un anno particolare dove anche aspetti che non c'entrano neanche molto col gioco, purtroppo pesano sull'intera stagione, ma io sono convinto che così come abbiamo fatto con l'Ortigia Lago, così come abbiamo fatto con il Savonacqua, così come abbiamo fatto con il Brescia, così come abbiamo fatto in tutte le altre partite, col Posillipo, col Quinto, noi daremo il meglio di noi e questo è quanto. Quali sono le armi che potete sfruttare per provare a mettere in difficoltà la formazione allenata da Mr. Bo? Io credo sicuramente non esporci troppo ai controviedi, quello che io vedo che soffriamo contro queste squadre che sono più pronte di noi è come ti dicevo prima la preparazione fisica, l'atleticità e quindi spesso capita che ci castigano proprio su questi controviedi che per noi sono deleteri e soffriamo da sempre praticamente, anche dalle partite degli anni scorsi in A2. Ovviamente quando il livello si fa più alto, mentre in A2 magari il controviede lo prendevi di un metro, di due metri e lo recuperavi, ora contro queste squadre qua il controviedi lo prende di dieci metri e ti fanno male, ti fanno male sempre perché ti castigano ogni qual volta ne hanno la possibilità. E questo secondo me è l'aspetto che noi dobbiamo limitare, che oggettivamente parlando secondo me, quei momenti della partita dove arriviamo ad un livello buono, come dicevamo prima, non prendiamo sempre controviedi, insomma riusciamo a giocare sempre piazzati in attacco, a giocare piazzati in difesa e a non subire appunto questa forza degli avversari che di solito ci mette spesso in difficoltà. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata, ringrazio Andrea Fortunato per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Andrea, grazie mille. Ciao Andrea, grazie a te, grazie a tutti, buona serata e mi raccomando sabato tutti a guardarci, forza cari! Grazie a tutti, grazie a tutti.